In tema di politiche sanitari le responsabilità delle scelte vanno collocate forse anche prima di tondo. In particolare su Gurizia l'errore di impostazione di strategia che la città ha subito è stata la mancanza delle prospettive sulla sanità trasfrontaliera che sarebbe stato un progetto simbolo che l'Europa oggi avendo il GECT avrebbe sicuramente finanziato. Quindi la ristrutturazione dell'ex ospedale civile era la scelta giusta. La ristrutturazione e il ridimensionamento del San Giovanni di Dio è stato l'errore che poi a cascata purtroppo in ogni campagna elettorale riemerge come tema di scontro ma gli errori sono da collocare le responsabilità nel passato. Sì ma è possibile che, ok, si può anche sbagliare però il fatto di non chiedere scusa, come facendo finta che tutti si dimentica perché è vero che la Saracchiani ha attuato ma lui la crea? Beh diciamo la memoria del cittadino è abbastanza labile quindi molto spesso poi anche il dibattito si concentra appunto puntualmente sulle polemiche da campagna elettorale ma sì forse chi deve chiedere scusa dovrebbe farlo insomma oggi. Senti io qualche giorno fa ho letto le dichiarazioni di Rodolfo Ziberna sul turismo siamo ancora a questo benedetto ascensore come se l'ascensore ti porta a 2000 posti di lavoro il giorno dopo ma è possibile che siamo ancora alla contesta e puttanata la gente? Beh allora non è certo un ascensore che richiama il turista il turista arriva se ha dei pacchetti e ha la possibilità ovviamente di costruire la sua permanenza e l'indotto che crea e genera nella città. Dire che l'ascensore è un'attrazione diciamo mi sembra una forzatura. Sta di fatto... Poi nel senso 7 euro mi parla per cui... No ma vuol dire anche quella scelta diciamo ha responsabilità condivise ma grosso modo è stata imposta nel mandato Valenti quindi dobbiamo risalire in questo caso addirittura tra il 99 e il 2000. Poi l'attuazione di quel progetto voi vedete ancora oggi è come è. Infatti parliamoci chiaro. Ziberna parla di fare un po' continuità a Romoli però se la continuità è dopo 10 anni non abbiamo fatto un mezzo passo avanti neanche per l'ascensore non c'è un piano del traffico stiamo avanti ancora un po' le carrosse cioè la città è ferma anzi sta morendo c'è una camera di commercio che è stata svenduta a Trieste che si è incassata ai milioni di euro che questa città aveva cioè proprio veramente è stata saccheggiata di tutto sotto il silenzio quasi di questa amministrazione. Ma allora citi l'esempio della camera di commercio lì si potrebbe aprire voglio dire un'intervista da mezz'ora nel senso che la parola magica che viene usata in questi casi è sinergie nel caso della camera di commercio sostanzialmente possiamo dire che è stata una fusione tra due realtà sappiamo che gli appetiti triestini erano soprattutto nella gestione del fondo Gorizia che è la cassaforte una delle uniche che restano a questo territorio ma al momento insomma il fondo Gorizia è salvo. Però portali scusami tutti i soldi che aveva dietro avevano tanti soldi la camera di commercio di Gorizia cioè a noi è sembrato di vedere quello che è mio quello che tu è mio e quello che mio è mio ma ok allora di nuovo Udine e Trieste hanno delle mire diciamo rispettivamente insomma di attrazione sui servizi sull'economia sul territorio isontino di nuovo veniamo agli errori che vengono fatti e compiuti e che poi tornano fuori aver fatto una riforma che crea le UTI che già di per sé era una riforma che io personalmente ho criticato e ho sostanzialmente subito in modo critico ma ho subito farne due di UTI nel isontino è stato l'errore che aggiunge debolezza a questo territorio perché è evidente che qualora il centrodestra ad esempio come promette vuole tornare indietro tanto sai che non è così esatto ma non è così il rischio concreto è che poi magari si ritorni sia alle province ma guarda caso le province potrebbero essere tre a quel punto quindi l'area monfalconese è sempre più attratta su Trieste l'area della destra risonso è più attratta verso Udine e si avrebbe un compimento di un disegno diciamo egemonico che arriva da lontano anche in questo caso io ti faccio un altro esempio area metropolitana con l'ex provincia di Trieste e Gorizia e Pordenone assorbite a Udine visto che la provincia di Udine esiste ancora sì appunto cioè voglio dire i rischi sono sempre maggiori nel momento in cui nel momento delle scelte la città o dorme o comunque si sveglia e fonda il comitato tipico da campagna elettorale però fuori tempo massimo allora la battaglia sulle UTI andava fatta prima